Siamo complimentati di voi ragazzi, innanzitutto perché ci consolate perché non ci mettiamo più così fuori. E poi spero che veramente possiate gioire sempre con questo spirito di amicizia, di compagnia, anche della vita professionale. E noi come università vi saremo comunque sempre vicini anche quando avrete i compiti che sicuramente saranno qualità delle vostre capacità. Quindi diamo a tutti un buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.